Grazie a tutti. Con l'avvio della decima legislatura ricomincia anche la serie di trasmissioni del punto l'incontro con i consiglieri regionali che vivono l'assemblea legislativa. Andiamo subito a conoscere per questa prima trasmissione il portavoce del centrodestra delle liste civiche Claudio Ricci. Buona serata e grazie della cortese ospitalità. E Giacomo Leonelli capogruppo del Partito Democratico. Buonasera a tutti. Allora entrambi siete alla prima esperienza da consiglieri regionali. La domanda è d'obbligo. Le prime sensazioni. Leonelli quali sono state? Una sana emozione, un giusto orgoglio per rappresentare la nostra comunità e anche un necessario senso di responsabilità tenuto conto anche della fase che abbiamo davanti. Noi abbiamo una fase dove più volte abbiamo detto che i temi sono molteplici ma sicuramente il tema del lavoro, dell'economia sono in cima all'agenda politica insieme anche a una cosa che non è una riforma, non è un provvedimento, non è una legge ma è sicuramente prioritaria come cercare di far tornare ad avere fiducia nelle istituzioni i cittadini. Purtroppo in questi anni e in tante altre regioni si sono verificati eventi disdicevoli e questo ha contribuito a far perdere fiducia nelle istituzioni e nelle regioni. Noi dobbiamo tutti, sia il centro-sinistra che il centro-destra, spero anche il Movimento 5 Stelle, insomma lavorare allacremente proprio per ricostruire un sano rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni che aiuta sicuramente anche la politica a migliorare, a migliorarsi e lavorare per il bene comune in un'ottica ovviamente di collaborazione, di dialettica politica ma comunque di necessario rapporto e filo diretto con i cittadini. Ricci, lei è ancora sindaco di Assisi per qualche giorno e essere sindaco di Assisi non è una cosa da nulla, lei ha rappresentato la sua città a livello mondiale, oltretutto è anche rappresentante e figura importante all'interno dell'UNESCO, per cui voglio dire questo suo passaggio, ecco come l'ha vissuto, come lo sta vivendo? La mia è stata un'esperienza amministrativa molto lunga, dal 1997 in diversi ruoli, fra cui vice sindaco, assessore e due volte sindaco di Assisi, come lei ha ricordato, ho ricoperto anche per due mandati la carica di presidente italiano dei siti patrimonio mondiale UNESCO, ora sono presidente onorario e ho ricoperto anche per un mandato la carica di delegato nazionale ANCI Comuni Italiani per il turismo. Mi accingo a concludere l'esperienza da sindaco, abbiamo approvato il bilancio preventivo 2015 qualche settimana fa, peraltro raggiungendo un ottimo risultato che ci ha visto ancora una volta non applicare l'addizionale IRPEF, che è stata posta nel Comune di Assisi uguale a zero per tutte le categorie e non abbiamo applicato nemmeno la tassa di soggiorno per l'anno 2015. Ora sto concludendo la mia esperienza istituzionale nel Comune di Assisi e sta cominciando quella regionale, dopo un'esperienza elettorale credo molto positiva, noi siamo riusciti ad aggregare tutto il centrodestra più le liste civiche, che mi hanno dato anche l'incarico di rappresentare come portavoce, e in questo quadro abbiamo cercato di fare un risultato che credo è stato molto significativo. Noi nel 2010 avevamo ben 20 punti percentuali di distanza rispetto al centro-sinistra, questa distanza si è ridotta solo il 3%, questo però aumenta anche il senso di responsabilità, noi dobbiamo fare una opposizione molto chiara, incisiva, ma sui temi, sui progetti. I 20 punti del programma amministrativo ora dovremmo tradurli in atti legislativi e propositivi nel quadro dell'Assemblea legislativa. A partire, è stato ricordato, ma voglio sottolinearlo, dal lavoro e dalle povertà, perché in Umbria è recente l'indicazione, la povertà complessiva è passata dal 2% al 10%, secondo fonti della Banca d'Italia legate all'economia Umbra, quindi il nostro obiettivo deve essere quello di utilizzare bene le risorse, risparmiare, togliere gli sprechi e con questo cercare di svolgere un'azione per lo sviluppo, anche cercando di ridurre le tasse. Su questa pagina programmatica di Ricci, Lonelli che dice? Ha dettato delle priorità, lo ha fatto come opposizione, sottolineando anche questo avvicinamento tra le due coalizioni centrodestra e centrosinistra. Lei oltretutto, se ricci, sindaco ancora di Assisi, lei è anche segretario del maggiore partito rappresentato all'interno dell'aula di Palazzo Cesaroni. Insomma, è d'accordo su queste priorità e se rivive insieme con noi per un minuto la campagna elettorale e quello che è stato? No, la campagna elettorale è stata una campagna difficile e sapevamo che sarebbe stata difficile perché non c'era il clima nazionale che c'era l'anno scorso e questo l'abbiamo visto anche in tante altre regioni. L'Umbria in più aveva la specificità che il centrodestra si presentava tutto unito e l'altra regione dove si presentava tutto unito la Liguria ha vinto. Nelle Marche non si presentava unito, in Toscana non si presentava unito e per la legge elettorale che ovviamente consente a chi ha un voto in più di vincere e capisce da solo che l'essere uniti è anche una garanzia di competitività per gli elettori. Tra l'altro rispetto a cinque anni fa loro avevano aggregato anche una forza come l'Udc che invece cinque anni fa era da sola, quindi un polo di centro che era disgregato rispetto al centrodestra. Questa è stata sicuramente una strategia importante del centrodestra e del sindaco Ricci di aggregare tutto il centrodestra, dal centro alla Lega come sapete. In più oggi c'è il Movimento 5 Stelle che ovviamente è un movimento diverso che probabilmente ha prosciugato anche Di Bacini che una volta non tanto nel PD ma erano alleati al Partito Democratico. non dimentichiamo mai che cinque anni fa è vero che noi prendiamo 20 punti in più come coalizione ma di questi 20-16 punti erano fatti dalla somma di Italia di Valori e Rifondazione Comunista che oggi praticamente sono spariti. Quindi è completamente diverso. I dici che quegli elettori non sono andati a votare, hanno votato per altri partiti insomma. Sicuramente, no, c'è uno studio di Bracalente che dice che solo il 18% di quelli che hanno votato i partiti alleati al centro-sinistra cinque anni fa, al PD scusate cinque anni fa, hanno votato i partiti alleati al PD. Quindi più di uno su cinque non ha votato centro-sinistra, ha votato o 5 Stelle o Lega Nord oppure la lista di vecchietti che era fuori. Quindi diciamo che è completamente diversa la fase politica. Questo non significa che sicuramente per chi ha governato questi anni non c'è un segnale di difficoltà, un segnale di allarme. I temi li sappiamo tutti quali sono insomma. Il tema dell'economia, del lavoro in una regione dove la disoccupazione, in particolare la disoccupazione giovanile, comincia a essere un tema che cede l'ordinario, insomma un tema pesantissimo. Anche se qualche segnale cominciamo ad avercelo. Per esempio ho visto... Il tema del report dell'Inps, sì sì, giovanile. E sul resto, ripeto, le questioni dette sicuramente sono legate ad una stagione che conoghi riforme, quindi risparmio, razionalizzazione e servizi, perché non basta razionalizzare se poi do servizi più scadenti o peggio ancora non li do. Perché a quello che vive la crisi economica, che magari ha perso il lavoro, che magari è in cassa integrazione, se gli tolgo anche quel servizio che erogava il pubblico, perché così in un'ottica di mera e brutale spending review io lo chiudo, gli peggioro anche la situazione. Per cui dobbiamo essere capaci di coniugare da un lato sicuramente il risparmio, per investire le risorse in quei settori che possono creare sviluppo e occupazione nel territorio, ma dall'altro anche avere la capacità covalente a ingrandimento di capire dove tagliare, cioè dove c'è uno spreco e dove c'è un servizio. Parleremo tra poco e approfondiremo questo tema parlando proprio di questo report dell'Inps. Ricci, in un minuto riusciamo a fare una riflessione sulla campagna elettorale, su quello che è stato poi il risultato finale che lei prima ha toccato. Leonelli ha fatto la sua riflessione, è d'accordo con lui oppure no? Noi abbiamo fatto una campagna elettorale molto legata alle persone. Potrei definire una parola, avvicinare, accorciare le distanze tra territori, persone e istituzioni. Io ricordo che in circa due anni abbiamo sviluppato oltre 300 piccoli incontri in tutto il territorio regionale. Credo che la chiave oggi di una politica che riacquista la sua anima sia proprio questa, quella di ritornare tra le persone per ascoltare. Le persone hanno molta voglia di un reciproco ascolto per individuare i temi più importanti per le comunità locali e per le comunità anche regionali. E ho notato anche una cosa, che quando si fanno piccoli incontri a 30, 40, 20 persone, e quindi c'è la possibilità di far dialogare le persone, non solo arrivano anche ottime indicazioni, ma si determina anche una comunicazione social multimediale attraverso Facebook, Twitter e i sistemi social ancora più efficace, un po' come se la parola, il ritorno al dialogo anche attivasse in maniera maggiormente positiva anche la comunicazione social. Credo che la politica deve tornare lì, ma deve tornare tra le persone sempre, non solo in campagna elettorale. Ripartiamo da lei con la questione Jobs Act, ci riferiamo al report dell'Inps che è uscito ieri. Sembra che da gennaio a maggio ci siano state oltre 30.000 nuove assunzioni, di cui quasi 9.000 stabili, contro le 23.000 cessazioni crescono anche i tempi dei contratti a tempo determinato, quindi c'è questo più 50,3% dei contratti a tempo indeterminato. È una buona base di partenza, sono dei dati che al di là del ruolo in Consiglio regionale, lei prima diceva anche la responsabilità, dato che siamo arrivati vicinissimi alla coalizione vincente, di essere propositivi, eccetera. Quindi questi dati la fanno essere ottimista? La Banca d'Italia è meno ottimista, i dati sono più negativi e più solidi probabilmente. La base su cui dobbiamo lavorare è una base innanzitutto, ricordateci, dalla Corte dei Conti. La Corte dei Conti fa delle analisi che vanno sempre prese come indicazioni per fare e per migliorare. Ha dato tra le altre due indicazioni, per esempio ha citato come il centro unico di acquisti in materia sanitaria è attivato solo per il 50%, quindi se questo si facesse di più forse si andrebbero a creare risparmi, perché poi con il risparmio che si può investire per sviluppare progetti e posti di lavoro. Oppure, sempre la Corte dei Conti ha citato che le partecipate, su cui la Regione ovviamente è inclusa, hanno spesso bilanci negativi perché forse si può migliorare l'efficienza e questi bilanci negativi incidono sul bilancio della Regione. Poi io credo che noi dobbiamo fare molta attenzione a eliminare tutti gli sprechi, molta attenzione a concentrare le risorse. Io credo che l'Umbria, e ho presentato ben 11 mozioni in questo periodo più un disegno di legge, ma una di queste mozioni, propositive, dice questo. L'Umbria necessita di un unico piano di marketing operativo. Noi dovremmo definire le 3, 4, 5 azioni principali da svolgere in un anno, magari anche utilizzando i fondi strutturali dell'Unione Europea, e su quello far convergere le risorse pubbliche, le risorse private, anche quelle delle associazioni che a volte sono molto utili. E poi dovremmo riprendere in maniera molto incisiva anche il tema della strategia nel sistema dei trasporti. Per esempio è iniziata l'Expo Milano 2015 e noi stiamo sostenendo che occorreva predisporre una linea aerea tra Perugia e Milano proprio nel periodo dell'Expo, ma questo è comunque un progetto che va determinato anche nelle prossime attività. Leonelli, il programma Grandi Linee Ricci lo ha sottolineato in questo suo intervento, ma l'ha fatto anche prima. Ecco, quindi a lei prima entriamo in questi dati, questa ripresa che sembra esserci dal punto di vista dell'occupazione, che rappresenta poi il punto di partenza per una crescita e soprattutto per una tranquillità sociale che in Umbria come in altre parti, insomma, si sta perdendo per la crisi che si sta vivendo ormai da anni. Il dato è che nessuno, o meglio, nessuno crede che ovviamente sia passata la nottata, però forse un po' di luce comincia a vedersi. Io non voglio così invitare all'ottimismo, perché l'ottimismo pure semplice sarebbe una stupidaggine. Però credo che qualche dato di risveglio c'è, qualche segnale in controtendenza rispetto al passato sia inequivocabile, lo dice anche Confindustria, non è che lo dice semplicemente il Partito Democratico. D'altra parte, quando noi abbiamo preso la guida del governo con il nostro segretario nazionale, nessuno ha pensato o promesso di risolvere problemi annosi che noi ci portiamo dietro da decenni rispetto all'economia, rispetto allo sviluppo, rispetto alla fase di crescita negativa, è in qualche mese. Noi sappiamo bene che per rimettere in sesto un Paese che ha avuto fino ai primi anni 90 un sistema incompatibile con le economie contemporanee, cioè un sistema economico basato sul debito pubblico, basato sull'aumento progressivo della spesa pubblica. Dal 92 al 2013-2014 è stato un Paese bloccato sulle riforme, sulle cose da fare, semplicemente sul tema Berlusconi sì, Berlusconi no. E questo è anche una responsabilità nostra, perché noi prima ancora di capire se quello che proponeva Berlusconi o quello che proponevamo noi fosse utile o meno al Paese, andavamo a guardare la posizione di Berlusconi per porci matematicamente sulla postazione contraria. Per esempio, su alcuni temi, la giustizia è uno scandalo, noi abbiamo un sistema, lo dico anche da operatore essendo avvocato, noi abbiamo un sistema della giustizia profondamente iniquo, profondamente lento e quando è lento i primi che ci rimettono sono i più deboli, che per magari avere ragione ci mettono 15 anni. Perché non abbiamo mai messo mano alla giustizia? Perché ogni volta che si parla di giustizia sembra facessimo un favore a Berlusconi. Quindi è stato un Paese bloccato per anni, su tanti temi, sull'economia anche. Quindi io penso che, anche per un dibattito interno, perché noi per arrivare al Jobs Act, dentro il Partito Democratico, sappiamo tutti le battaglie, le guerre che abbiamo fatto. Quindi ci vuole del tempo. Qualche segnale c'è, sta a noi in Umbria, recepirlo e in qualche modo cercare di essere conseguenti. Io le cose che ha detto Ricci le ho ascoltate con attenzione. C'è un tema che per esempio noi abbiamo messo al centro della nostra agenda politica, che è il tema del brand Umbria, il marchio Umbria. Cioè cosa significa? Veicolare la nostra regione. La Toscana l'ha fatto 20 anni fa, aveva una città come Firenze, che era tra le più conosciute al mondo, nonostante questo ha puntato sul nome Toscana. Oggi nel mondo tutti conoscono la Toscana. La Toscana garanzia di qualità nei prodotti turistici, cioè nei servizi turistici, nei prodotti dell'agroalimentare, nei tutti i servizi che offre. Noi dobbiamo fare lo stesso. Purtroppo siamo ancora poco conosciuti. Io penso che una regione come la nostra, con il paesaggio, con l'agroalimentare che abbiamo, con le risorse del nostro ambiente, può essere una regione competitiva anche in un'ottica di sviluppo economico, ma certo deve farsi conoscere. Siamo ancora troppo poco conosciuti. Tolto Assisi, che è sicuramente molto conosciuta, ancora il nome Umbria è un nome che non viene percepito nei mercati emergenti. Penso all'India, penso al Brasile, penso ai mercati asiatici. Su questo io credo che se c'è da parte anche del centrodestra un ragionamento di implementare questo tipo di volano per lo sviluppo sostenibile della nostra regione, un dialogo si possa aprire. Siamo in attesa del piano programmatico di legislatura che la Presidente Marini farà sapere all'aula verso la fine del mese, di questo mese di luglio. E quindi stanno venendo fuori in questo incontro di stamani diverse idee che poi rappresenteranno il programma di legislatura. Le domande arrivano automatiche dall'uno all'altro, tra Ricci e Leonelli. Che ne pensa di quello che ha detto Leonelli, Ricci? C'è un primo punto, credo che può essere condiviso. L'Umbria deve, come dicevo poc'anzi, dotarsi di un unico piano di marketing operativo anche per la promozione culturale e turistica, ma aggiungo anche e soprattutto per la vendita, per la commercializzazione. Quello che manca a tutti noi Umbri non è tanto il prodotto, abbiamo buoni prodotti nel turismo e anche nelle altre filiere. Dobbiamo saperli vendere meglio e promuoverli meglio anche con reti commerciali adeguate. L'altro punto importante è, credo, quello della dotazione finanziaria. Camminando in Umbria in questi 20 mesi spesso abbiamo sentito l'esigenza, soprattutto di piccoli imprenditori, di artigiani che non riescono più ad avere affidi bancari. Ecco, il credito bancario è un elemento importante. Credo che anche su questo si possa fare una riflessione perché l'Umbria ha necessità di riaggregarsi in un unico grande gruppo bancario che possa aiutare le nostre imprese, anche cogliendo e aggregando quanto di positivo stanno facendo le banche di credito cooperativo. C'è un terzo elemento che vorrei sottolineare che è stato anche ripreso dal Presidente dell'Assemblea Legislativa a cui facciamo gli auguri unitamente a tutti i consiglieri regionali e unitamente al Presidente della Giunta e agli Assessori è quello del caso o meglio del progetto Terni. Io sostengo anche nell'ultimo periodo che noi dobbiamo porre grande attenzione non solo all'area del Perugino ma anche all'area del Ternano per questo io pongo l'auspicio che un'Assemblea regionale dell'Umbria un Consiglio regionale come veniva citato possa svolgersi nell'area Ternana perché lì è necessario certo tutelare la filiera degli acciai speciali e del polo chimico e tutti credo che stanno sostenendo tale tutela ma occorre anche guardare al futuro occorre capire come poter costruire un nuovo grande distretto innovativo sui nuovi prodotti del manifesturiero sui nuovi prodotti delle tecnologie anche sulle filiere cultura, ambiente, turismo nell'area Ternana e tutto questo necessita ovviamente di un'azione specifica anche con i fondi strutturali dell'Unione Europea. Credo che sempre più dobbiamo avere consapevolezza che l'area Ternana produce per tutta l'Umbria prodotto interno lordo e quindi anche opportunità di lavoro. Allora Ricci come portavoce del centro-destra candidato presidente della coalizione rappresenta sei consiglieri regionali lei Leonelli come capogruppo e anche come segretario del Partito Democratico ne rappresenta undici cioè diciassette consiglieri regionali su ventuno rappresentati in questo caso. Come prevedete questa legislatura? Ritorniamo su un discorso che avete fatto anche prima ma adesso ci arriviamo con una domanda specifica. Una legislatura in cui il dialogo prevarà su tutto in cui le proposte verranno comunque dibattute da quale parte esse arrivino oppure sarà una legislatura in cui farà pesare la forza dei numeri in aula il centro-sinistra e sarà dura opposizione al centro-destra. Come sarà? Proviamo a immaginare i prossimi mesi. Non è lì? Come sarà? Lo determineremo noi nel senso che alla fine sarà compito dei consiglieri regionali e in particolare onere del partito di maggioranza dare un'impostazione al modus operandi dell'Assemblea Legislativa. La mia idea è che sarebbe sbagliato semplicemente far vedere agli umbri tattiche prove muscolari del centro-sinistra e del centro-destra che prescindono invece dal merito delle questioni. Ci sono molte cose che ovviamente abbiamo scritto nei nostri programmi e noi le portiamo avanti. Se il centro-destra volesse fare un'opposizione costruttiva magari migliorandocele migliorando le nostre proposte siamo disponibili ad ascoltare. Dipenderà anche da loro. Anche il centro-destra mi sembra abbastanza o meglio il centro-destra l'opposizione mi sembra abbastanza eterogenea perché probabilmente c'è tra gli otto consiglieri di minoranza chi può dare un contributo costruttivo e chi invece probabilmente gioca una partita tattica sulla visibilità e sulla capacità invece piuttosto che entrare nel merito delle questioni di rilanciare temi che spesso stanno nel dibattito nazionale. Io non nego che a me ha sorpreso molto il dibattito di insediamento della Presidenza del Consiglio dove apro l'inciso io penso che abbiamo fatto un bel passaggio eleggendo Donatella Porzi che è la più votata del Partito Democratico una donna la prima donna Presidente dell'Assemblea Legislativa anche come segnale di innovazione a questa comunità un'insegnante una persona che lavora quindi credo che sia stata una cosa importante questo primo passo e ovviamente buona parte del merito è il PD che l'ha candidata però al di là di questo io ho sentito gli interventi che parlano del merito delle cose di quello che fare come ridare fiducia alle istituzioni come ridare articolazione politica al Consiglio regionale nel territorio e poi ho sentito gli interventi di mera demagogia e di mera così posizionamento anche su temi che erano completamente sorbitanti rispetto all'ordine del giorno certo se andiamo in assemblea legislativa e parliamo di agricoltura e ci si risponde con tutte altre questioni diventa complicato essere costruttivi poi vedremo nell'arco della legislatura Ricci lei nel suo intervento per l'elezione di Donatella Porzi è stato molto chiaro quindi anche prima l'ha sottolineato la responsabilità che vi dà la percentuale che avete raggiunto sì noi abbiamo già ricordato che sia la Lega Nord che Forza Italia che Fratelli d'Italia che la lista Ricci Presidente che esprimono sei consiglieri regionali noi saremo molto incisivi saremo molto compatti ma sui progetti e sui temi noi andremo molto a fare opposizione su questo tema dopo tema progetto dopo progetto anche auspicando che le nostre proposte possano trovare riflessioni positive per esempio tra poco l'Umbria avrà una opportunità che non possiamo dimenticare il grande giubileo della misericordia inizia nel dicembre 2015 e si concluderà nel novembre 2016 è una nuova grande opportunità per l'Umbria noi abbiamo già proposto che sia istituita una commissione specifica che possa avere un quadro di coordinamento su questo per cogliere tutte le opportunità che deriveranno non solo per il turismo religioso ma anche per il turismo culturale più in generale per la promozione della nostra regione altro tema che abbiamo introdotto l'Umbria deve partecipare con il quadro di Terni in particolare ma come quadro regionale anche al dossier di candidatura per le Olimpia di Roma 2024 perché anche quella può essere una grande opportunità strategico economica ma anche di promozione ecco noi staremo molto sui temi sui temi del lavoro sui temi del sostegno alle persone che sono in difficoltà e poi anche sui temi che ho ricordato dello sviluppo allora siamo in conclusione pochi secondi leonelli ricordava di essere avvocato prima parlando di giustizia Claudio Ricci è un ingegnere ci sono punti di incontro quali saranno i punti di incontro tra un ingegnere e un avvocato nell'arco nell'arco della legislatura questa è una domanda scherzosa chiaramente ci saranno a livello di figure professionali lasciando da una parte il vostro ruolo politico io credo che nei prossimi cinque anni la regione Umbria sarà chiamata non solo a risolvere mi auguro alcuni problemi del lavoro e del sostegno alle persone in difficoltà ma probabilmente sarà anche chiamata a guardare al futuro delle regioni stesse e alle macro regioni lei immagini a questo tema di come aggregare l'Umbria ad altre regioni per le macro regioni su questo ovviamente ci dovrà essere un dibattito costruttivo fra tutte le componenti politiche Lonelli ci diamo con lei in pochi secondi al di là delle figure professionali rappresentate in consiglio che poi sono figure di ogni tipo come è giusto che sia noi rappresentiamo la comunità a prescindere da quello che poi facciamo nella vita quotidiana sul resto ripeto siamo in una fase storica particolare tante certezze che avevamo in passato non ce le abbiamo più anche rispetto l'assetto istituzionale per quello che riguarda questo dibattito sulle macro regioni che ricordava Ricci penso che la cosa importante è che si percepisca nel consiglio regionale il grande senso di responsabilità per questa fase questo credo che sia un passaggio importante soprattutto la grande attenzione degli Umbri rispetto a quello che noi faremo per il futuro a ragione Ricci non solo a lui anche a noi ci dicevano e per noi è molto più grave perché siamo partito teoricamente radicato in tutto il territorio non vi potete far vedere soltanto durante le campagne elettorali avevano ragione stiamo in piazza stiamo nei mercati giacomo leonelli capogruppo del partito democratico che hanno dato vita a questa prima trasmissione del nuovo ciclo del punto per questa decima legislatura e grazie a Claudio Ricci che è il portavoce del centrodestra e dell'elise civile buona serata a tutti grazie a voi per averci seguito appuntamento alla prossima settimana arrivederci grazie a tutti